Fiamme alte e altissime nel parco di Giulio di Brindisi, polmone verde incastonato tra via Giuseppe di Vittorio e via Chille Grandi. Attimi di paura e concitazione. L'allarme è scattato alle 13.30 circa di giovedì. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno domato le lingue di fuoco e messo in sicurezza la zona fortemente urbanizzata, dove peraltro insiste l'istituto Ettore Palumbo, i cui studenti, per evidenti ragioni di sicurezza, hanno abbandonato l'edificio scolastico con una manciata di minuti d'anticipo. A causa del forte vento e della presenza di sterpaglie lungo la strada, infatti, l'incendio avrebbe potuto raggiungere la vegetazione dell'edificio scolastico. Abbiamo in realtà avuto paura, all'1.35 abbiamo fatto uscire i ragazzi da scuola, quindi anticipando di una decina di minuti l'uscita, perché vedevamo delle fiamme sempre più evidenti da scuola. La cosa brutta è stata che a causa del forte vento dei lapilli entravano nel nostro giardino e quindi poi l'erba secca cominciava a prendere fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa tre ore. Alle 16.30 delle fiamme non vi era più traccia, solo fuligine, l'odore acre di bruciato e per la popolazione scolastica una mattinata da dimenticare.